guardate un esempio questo è un quaderno di un mio allievo questo è il quaderno del mio allievo sei mesi dopo questo risultato non si ottiene perché io faccio delle belle lezioni le lezioni possono essere belle finché vuoi ma se uno scrive e organizza le cose così cioè non c'è verso che tenga non è che ah che bella video lezione allora cambio sistema di scrittura no, incidi zero perché la bellezza non basta ai 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 e qui le note sono dolenti non basta abbiamo un prima e abbiamo un dopo ma un dopo che cosa? che cosa abbiamo fatto per ottenere questo risultato? perché abbiamo ottenuto questo risultato? beh il primo motivo è che noi abbiamo ottenuto questo risultato perché noi amiamo la bellezza e quindi respingiamo ops e quindi respingiamo questo non accettiamo questo punto numero uno se questo non è chiaro chiudete il webinar e andate a casa perché se non si condivide questo principio non ha senso niente è inaccettabile irricevibile una cosa di questo genere e tuttavia noi non possiamo dire è irricevibile cioè non possiamo fare così non esiste perché noi vogliamo portare i nostri studenti e questo è il nostro compito su un piano di bellezza perché è una bellezza estetica compositiva e anche una bellezza cognitiva vuol dire che c'è un'organizzazione mentale e una cura ma lo possiamo fare solo se noi abbiamo cura della loro produzione e quindi se questa produzione è su un quaderno c'è un quaderno di un certo tipo un quaderno piccolo non quei quaderni grandi pieni di fogli che vanno da tutte le parti quindi un quaderno che si possa curare un quaderno che noi possiamo portare a casa perché se il quaderno è piccolo noi possiamo portare a casa anche 30, 40 in uno zainetto un quaderno che sfogliamo regolarmente che restituiamo esattamente come si fa per esempio nella scuola elementare si faceva molto di più una volta si è perso un po' questo anche nella scuola elementare e che io faccio anche nella scuola superiore questo è un ragazzo di quinta superiore era in quarta quando l'ho preso io e scrivelo in questo modo quello che io mi chiedo è come ha fatto arrivare in quarta in queste condizioni cioè senza che nessuno gli insegnasse qualche cosa di diverso dato che era possibile visto che in sei mesi ha potuto apprendere un sistema diverso e ne era molto contento quindi noi dobbiamo la bellezza implica implica attenzione per la bellezza implica cura implica amare quello che i nostri studenti fanno anche questo certamente anche questo per poter ottenere quest'altro risultato e quindi aiutarlo a fare rifare con calma scrivere mettersi di in pe valorizzare valorizzare ogni minimo passo in questo tragitto tra qui e lì quindi vuol dire dedicare del tempo non del tempo all'insegnamento ma del tempo alla cura dei propri studenti perché questa è la bellezza che loro colgono nell'insegnante loro si accorgono quando l'insegnante ha cura di loro e se l'insegnante per avere cura di loro non lo so trascura magari altre cose più burocratico tecniche o parte di un programma non ha nessuna importanza perché quello che conta è proprio questa è la cura non può esserci bellezza senza la cura la bellezza della natura è spontanea e naturale la natura cura se stessa non ha bisogno di cura si cura da sé ma l'uomo invece deve curare non solo la bellezza della natura ma anche la propria perché da solo produce schifezze e non bellezze e quindi se vuole imitare la natura deve restare dentro un processo di cura e questo processo poi facilita ovviamente l'apprendimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti